Il 6 giugno a Santena nel castello di Cavour si è commemorato il 151esimo anniversario della morte di Camillo Benso Conte di Cavour e il 160esimo anniversario della sua nomina a primo ministro del regno di Sardegna. Nel corso della cerimonia la fondazione intitolata allo statista ha consegnato al Consiglio regionale del Piemonte il diploma di socio benemerito della fondazione Cavour. Per noi fondazione e associazione Cavour questa è una giornata molto importante perché è il 151esimo anniversario della morte del Conte di Cavour. Noi utilizziamo questa giornata per una cerimonia come vede è molto sentita nella città di Santena questa cerimonia. Quest'anno poi è ancora più importante perché abbiamo colto questa occasione per conferire il titolo di socio benemerito al Consiglio regionale del Piemonte. In chiusura della cerimonia i presidenti Cattaneo e Enesi hanno sottoscritto un protocollo d'intesa tra il Consiglio regionale del Piemonte e la fondazione nel quale i due enti si impegnano a collaborare al fine di promuovere le iniziative per promuovere e valorizzare la figura di Cavour.